Bene, ringraziamento al sindaco e riprendiamo dall'inizio, tanto non avevamo ancora cominciato. Choran dice che l'odio è dinamico ed è l'odio che muove la storia. L'amore è statico, per dire una cosa del genere bisognerebbe definire bene l'amore. Io sono un vecchietto, ho sempre fatto, da quando io mi ricordo, mi sono sempre stato un cultore in generale della storia, ma in particolar modo naturalmente della storia medievale o della storia orientale. Sapete, il Medioevo è l'oriente della cronologia, il Medioevo è nella cronologia quello che è l'oriente nella cultura e nello spazio. Perché? Perché è il diverso da noi. E il diverso da noi, bisogna capire anche la parola diversità, non è necessariamente l'opposto, è semplicemente il diverso, anzi il completamente diverso. Rudolf Otto ha definito ganz anders, completamente diverso, il Dio e l'idea del divino rispetto all'uomo e all'idea dell'umano. Non è l'opposto, è un'altra cosa, è appunto diverso. La diversità. Ecco, la diversità potrebbe essere pensata come uno dei motori della storia e i momenti in cui la diversità viene più o meno in qualche modo azzerata e i momenti in cui la diversità viene invece esaltata. E' necessario parlare dell'odio come il contrario dell'amore? Io sono abbastanza medievista, sono abbastanza toscano, sono anche perfino abbastanza dantista perché si può fare in Toscana impunemente il mestiere medievista senza occuparsi un pochino di Dante, quindi senza voler essere uno specialista, che ormai per essere specialisti di Dante bisogna metterci una vita 24 ore su 24, altrimenti ti saltano addosso da tutte le parti e tutte le volte sbagli una virgola. Come tale so che Dante ha una visione del rapporto odio-amore interessante che risale a Sant'Omaso, però Sant'Omaso a sua volta prende a piene mani dal commento che Averroè Ibn Rasht ha fatto di Aristotele, Averroè Ibn Rasht ha fatto anche commenti al Corano e commentando Aristotele cita ampiamente ovviamente il Corano e quindi siamo rimandati all'indietro, Aristotele da un lato, il Corano dall'altro e tutti concordano su un fatto. L'amore di per sé è l'essenza del divino, l'essenza del divino è l'immobilità, il cielo empireo, però è una immobilità che genera mobilità vorticosa, genera l'esatto contrario, genera il primo mobile che si muove a un ammoto così vorticoso che ogni punto nella sua consistenza sferica, ogni punto in ogni momento aderisce a ogni punto dei cieli sottostanti, com'è possibile tutto questo? Evidentemente è un paradosso, quindi l'immobilità, immobilità che Choran chiama, dando mostra e definirla come qualcosa di sterile, come fattrice di moto straordinario, di moto eterno, di eterno movimento e soprattutto fonte di continua energia. Allora dobbiamo rovesciare Choran? No, a patto semplicemente di capire che Choran pone un problema al quale si potrebbe rispondere come è giusto rispondere, perché altrimenti la dialettica va a farsi benedire ed è inutile riunirsi per discutere se poi la dialettica va a farsi benedire, si potrebbe rispondere con una serie di motivi, di dubbi motivati. Ecco, il dubbio motivato, già chi mi ha preceduto parlava del dubbio, della necessità del dubbio, del bisogno del dubbio. A vedere come si sta muovendo l'Occidente democratico, non direi che il dubbio sia alla base o, se preferite, al vertice delle sue aspirazioni e preoccupazioni. Noi siamo al contrario, in questo momento, cito la cronaca di tutti i giorni, basta guardare la stampa, guardare le televisioni, cioè guardare le espressioni massmediali del paese legale, del paese che conta, del paese che immanda gli input. Poi c'è il paese reale, il paese reale o tace, tace perché è ottuso, tace perché è ignorante, tace perché è vigliacco, tace perché è disorientato, tace perché non gliene frega nulla? Non sappiamo. Diciamo che il paese reale in questo momento si sente poco. Cominceremo a sentirlo forse all'inizio dei primi freddi, quando insieme ai primi freddi sarà chiaro che uno dei risultati non soggettivi ma obiettivi delle sanzioni alla Russia è che in realtà il grande peso delle sanzioni lo subirà l'Europa. Allora può darsi che il paese reale, ottuso, ignorante, vigliacco, disattento, tutto quello che volete, che il paese reale davanti alla morsa del freddo e la necessità di ripararsi dal freddo solo a non carissimo ma astronomico prezzo si risvegli in qualche modo e si risveglierà evidentemente in maniera disorganica, in maniera disordinata perché non mi sembra che stia preparando i presupposti per un risveglio ordinato, a meno che questi presupposti non siano così nascosti, così celati, così ben nascosti che per il momento non se ne sono visti traccia, ma può anche darsi che sia così. Io commenterei Choran che è un grande scrittore, non so se sia un grande filosofo, ma questo io non faccio il filosofo quindi non posso dire nulla al riguardo, certamente è un grande efficace scrittore, un grande indagatore dell'animo umano questo lo si può dire di Choran e a Choran opporrei molto modestamente e in maniera certamente non conformista con un verso di una vecchia canzone fascista, la canzone che era l'inno dei battaglioni M senza l'odio non c'è amor beh, anche questo è un buono spunto in fondo sono opposti gli opposti si attraggono gli opposti si sostengono a vicenda è del tutto vero che senza l'odio non ci sia amore e se provassimo a rigirare la frittata e se dicessimo che in fondo l'odio potrebbe essere interpretato anche come una funzione dell'amore io ho fatto, ho spesso gran parte della mia esistenza studiando, no, buona parte, non gran parte, buona parte della mia esistenza studiando una sola città magari ne ho studiate anche altre, ma una in particolare che è quella che per tante ragioni è una delle mie più care forse la più cara a parte Firenze perché ci sono nato a Parigi dove ho studiato, eccetera, eccetera ma Gerusalemme Yerushalayim la città della pace c'è una città che non ha mai conosciuto pace salvo per buona parte in quei tre secoli in cui fu una città di provincia però era pur sempre una delle grandi città sacre dell'Islam al tempo dell'impero ottomano tra 500 e 800 in realtà Gerusalemme è stata abbastanza una città pacifica pagando questa pace perché era una città che stava decadendo che cadeva a pezzi ci andavano i pellegrini, certo, pellegrini cristiani pellegrini ebrei pellegrini musulmani i pellegrini molto spesso però è abbastanza poveri vivevano di carità e quindi non aiutavano a crescere nel senso materiale la città di Gerusalemme per il resto poi Gerusalemme è sempre stata una città di guerra e perché? paradosso nel paradosso se vedete le cause di queste guerre scoprite che questo può essere vero anche per altre città anche per altri oggetti di studio qualunque ma per Gerusalemme si vede bene è una città che è troppo amata troppo amata e quindi l'amore questo è già stato detto da molti a partire da Orazio è una funzione del desiderio troppo amata e quindi troppo desiderata troppo esclusivamente desiderata e pensata per non essere esclusiva di nessuno oggi noi la chiamiamo la città delle tre fedi religiose è un'espressione come tante altre mediatica e quindi molto imprecisa e bisognerebbe spendere tempo a commentare e non la commenterò diciamo che forse potremmo definire ormai delle quattro fedi religiose perché esiste una religiosità di tipo laico che è quella che si aggira intorno al concetto di pace anche quello concetto abbastanza complicato non a caso si citava poco fa tacito hanno fatto il deserto e l'hanno chiamato pace è questa la pace la pace dei cimiteri oppure un altro tipo di pace la pace romana come anche la pace mongolica era la pace dei triunfatori anche lì riposava senza dubbio sui cimiteri dei vinti non solo dei vinti ma anche i cimiteri dei vincitori i vincitori di solito non sfuggono al principio secondo il quale si crea una religione laica che si basa sull'elaborazione del lutto la vittoria la pace come vittoria riposa sul sangue dei martiri questo è vero per l'antica Roma perché è vero per il cristianesimo è vero un pochino un pochino per tutte le situazioni conflittuali non molte settimane fa al tempo in cui almeno apparentemente la popolarità del presidente Putin in Russia era molto poco scalfita nonostante la guerra fosse già iniziata e quindi certi dubbi ci potevano essere in questo momento ci stanno dicendo le nostre fonti le fonti dei nostri mass media che però sono rigorosamente attinte dall'altra parte e quindi sono un po' lo storico direbbe che bisognerebbe anche guardare un po' quello che dicono gli altri insomma però le nostre fonti ci dicono che la popolarità del presidente Putin sta scendendo e può darsi quando al tempo del suo famoso trionfo allo stadio al grande stadio di Mosca al grande stadio olimpionico di Mosca Putin ne fece appunto giustamente da buon russo ortodosso l'ha fatto anche il patriarca Kirill e rientra nella tradizione cristiana l'elogio funebre degli eroi disse non c'è nulla di più bello di versare il sangue per la propria patria e per la propria famiglia frase che senza dubbio qualcuno avrebbe accusato di avere delle lontane risonanze fasciste perché no perché no io avevo in animo di cominciare proprio da questo punto perché recentemente in Toscana è successa una cosa importante una cosa che mi riempie di gioia perché finalmente riuscirò a liberarmi di un vecchio dubbio il presidente Gianni ha proclamato e fatto mettere in statuto che la Toscana è una regione antifascista questo mi riempie di gioia non perché io sia particolarmente antifascista o particolarmente fascista non ho mai troppo ben capito né i fascismi al plurale perché è una cosa che va detta al plurale a meno di non fare una di non fare la scelta di fare equivalere il fascismo nel suo senso peggiore più sanguinoso e deteriore al peggio del nazionalsocialismo ma questa è una manovra che storicamente non è portabile avanti per ragioni che a suo tempo De Felice ha abbastanza ben dimostrato e che oggi vengono contestate ma vengono contestate con contumelie e non con ragionamenti io mi sono fatto una bella è il mio mestiere in fondo nei miei sottomestieri c'è quello di recensore mi sono fatto una larga spanciata di testi antifascisti degli ultimi mesi di quelli che vanno molto alla moda i due libri di Filippi il recente libro del mio amico mio caro amico Cazzullo beh francamente non ci ho trovato grandi ragionamenti ho trovato un elenco di fatti che vengono regolarmente commentati al peggio si arriva a dire fra le righe beh in fondo la bonifica delle paludi pontine teniamo presente che la bonifica delle paludi pontine ha distrutto la diversità 320 diversi tipi di zanzare che allignavano nell'agropontino e che dopo la bonifica non ci sono più state questo grande patrimonio dell'umanità che noi vediamo basta che voi andiate in Finlandia o in Siberia e lo vedete è il grande patrimonio della natura queste grandi capacità della natura di creare fra l'altro migliaia di specie diversi di insetti parassiti è una cosa straordinaria lo dico senza ironia da qui ad accusare il fascismo di aver eliminato la diversità degli insetti parassitari mi pare che l'argomento ha qualche cosa che zoppica ha un che di fazioso e di capzioso per il resto io non ho trovato risposta alla mia domanda ma insediamoci la risposta alla mia domanda io la vado cercando da tempo non mi ci applico più di tanto perché io faccio il medievista e ho già da fare come medievista piuttosto anche se faccio frequenti incursioni in altre regioni storiche e anche regioni diverse dalla storia per esempio l'antropologia culturale ma più di tanto non si può però certe cose non le ho capite il presidente Gianni dice che noi siamo una regione antifascista benissimo io mi aspetto per l'amore che porta e la considerazione che porta alla mia regione che da qui a non molto la presidenza della regione produca una o magari molte prove di questa asserzione la Toscana è una regione antifascista discutendo anche una cosa che francamente mi preoccupa alquanto la definizione di fascismo e la definizione di antifascismo sono due problemi storici la definizione di fascismo i casi sono due o io mi accontento di una definizione ufficiale ristretta al solo mondo italiano e direi che il corso della storia ha provato che può essere necessaria ma non è sufficiente e allora potrei attestarmi sul lungo articolo praticamente un libro scritto teoricamente a quattro mani fra Benito Mussolini e Giovanni Gentile di cui si può dire tutto il bene e tutto il male possibile soprattutto del secondo ma che insomma erano quattro mani illustri e che hanno definito il fascismo dall'interno di quello che era in parte una teoria e in parte una manifestazione di intenti e questo è il fascismo a cui rifarsi come a uno schema sicuro? Beh lo sarebbe se non fosse successo un paradosso storico che è un paradosso molto inquietante oggi come oggi le varie ideologie prenderò le ideologie fondamentali insomma poi ci sono infinite sotto ideologie ma diciamo che le ideologie che spaziano dal liberismo o dal liberal liberismo fino al socialismo e che includono anche articolazioni cattoliche articolazioni pacifiste articolazioni naturiste ed ecologistiche eccetera queste due grandi ideologie e le varie sotto ideologie o para ideologie che gli stanno intorno sono state oggetto di studi sereni e concordi e sono studi sereni e concordi che possono essere chiosate finché si vuole anche in maniera molto negativa molto critica perfino malevola d'accordo? E appartiene alla nostra libertà scegliere il modulo secondo il quale si può criticare qualcosa partendo sempre però da una definizione che sta all'interno di esse stesse se io parlo di liberismo non posso astrarre da Adam Smith evidentemente se io parlo di socialismo non posso evidentemente astrarre da Marx Engels nemmeno da Lenin e magari anche dai presupposti fino a Feuerbach fino a Rousseau e magari andando indietro fino a Platone perché no le radici delle ideologie moderne sono importanti ma siamo sempre in un ambito a mio avviso corretto di analisi dall'interno non si esce dall'interno di un'ideologia che si presenta come tale se non per criticarne gli esiti esempio macroscopico di critica degli esiti di un'ideologia noi l'abbiamo avuto una centina di anni fa quando in correlazione con il crollo dell'Unione Sovietica è avvenuto anche il crollo di una parte importante dell'ideologia socialista il sottogenere il lustre sottogenere comunista per lo meno del comunismo come si era realizzato in Unione Sovietica con minore attenzione si è badato all'evoluzione che il comunismo ha avuto per esempio in Cina che è di tutt'altra cosa di tutt'altro genere e che non a caso ha immesso nell'impasto ideologico anche un forte forti elementi di natura autottona cinese da Confucio fino all'Ao Zè forse un po' meno Buddha ma l'universo cinese è questo insomma il buddismo cinese è passato a sua volta al setaccio confuciano e taoista ora anche su queste cose si potrebbero fare delle belle giornate settimane di studi ma non è il caso in questa sede di darci più di un accenno perché evidentemente stiamo accennando a una quantità di cose in quel tempo io me lo ricordo perché non ho vissuto quel tempo in prima persona io non ero di quelli che si battevano il petto e dicevano come mi vergogno di essere stato comunista oppure come mi vergogno di continuare nonostante tutto a esserlo però ho vissuto per anni in una città rossa in un quartiere rosso in una famiglia rossa e poi in una facoltà rossa quindi di socialismo e di comunismo me ne intendo e mi è capitato di confortare alcuni miei amici e colleghi dicendo beh guarda esiste e siete i primi a dirlo un socialismo reale che ha fallito perlomeno il socialismo di marca sovietica limitiamoci a quello il socialismo reale ha fallito è venuta meno con questa la vostra giustificazione di rivendicare un socialismo ideale che non ha fallito perché anzi si potrebbe sostenere che il socialismo reale ha fallito proprio perché non è stato fedele alle proprie istanze e avviare una critica che è stata avviata proprio in questo senso a un certo punto ci siamo fermati perché ci siamo accorti di uno scondio della possibilità di scontrarsi con un grande con una corazzata che stava avanzando perché incautamente qualcuno ha detto il qualcuno era il compianto Berlinguer qualcuno ha detto del socialismo non dimentichiamo che il comunismo è fallito anche e soprattutto per colpa di Stalin e no mi dispiace lo stalinismo è stato ufficialmente e teologicamente condannato con ampiezza di prove al ventesimo congresso del partito comunista dell'Unione Sovietica nel 62 da allora il sistema comunista l'ideologia comunista ha voltato pagina e il fallimento del comunismo non voglio dire che è avvenuto perché si è abbandonata la via indicata da Stalin diciamo che il fallimento del comunismo è posteriore e alieno rispetto allo stalinismo sono cose diverse è difficile in questo caso avere le idee chiare è difficile reagire al tentativo fatto magari da noi stessi di ragionare di queste cose con quelle che Graham Greene diceva quell'atteggiamento che Graham Greene definiva col cuore caldo e con la testa e con la testa fredda per ragionare col cuore caldo e con la testa fredda temo che si deve essere dei santi o degli eroi insomma o delle personalità superiori altrimenti non ci riesce ordinariamente noi siamo tiepidi sia di sangue che di testa però resta il fatto che tutte le ideologie vanno considerate come dicono i principi scientifici fondati da Aristotele e ribaditi poi anche da Copernico da Madame Curie eccetera iuxta sua propria principia non c'è cosa sotto il sole che non si possa e non si debba giudicare secondo i suoi principi poi diremo magari che i principi sono sbagliati o che sono stati traditi analizzeremo le ragioni dell'errore le ragioni del tradimento l'errore è involontario abitualmente il tradimento è volontario vedremo per le singole ideologie c'è un'eccezione il fascismo il fascismo è giudicato non dall'interno non iuxta sua propria principia ma dai propri principi visti attraverso il prisma degli avversari è divertente ma se voi prendete ribadisco un libro che per certi versi è un libro interessante su Mussolini capobanda di Cazzullo voi notate continuamente questo giudicare il fascismo sulla base conclamata dei suoi principi ma che vengono criticati regolarmente alla luce di principi altri e allora se si vuole mischiare la prima fase di un giudizio critico che è quello dell'apprendimento pieno dell'apprensione si direbbe in linguaggio filosofico ma apprensione nel linguaggio volgare vuol dire un'altra cosa quindi non posso usare questa parola dell'apprendimento pieno del prendere padronanza della cosa in sé per poi giudicarla alla luce però di principi e possono essere anche soggettivi ma vanno declinati se si comincia a prendere il principio soggettivo e lo si traveste dal principio obiettivo non va più bene bisogna dire questa è la mia ragione sono le mie idee che io propongo dicendone a mia volta origine sviluppo eccetera altrimenti non ci sentiamo più se io contrabbando le mie idee come fatti obiettivi baro e io noto questo fascismo ordinariamente come si definisce il fascismo? la legge scelba l'ha definito il fascismo? la costituzione l'ha definito il fascismo? con la sua disposizione che sembra paradossale transitoria transitoria e finale beh se le cose sono transitorie non sono finali per la sua intima ragione ma la razza della disposizione costituzionale è corretta posizione transitoria siamo in una repubblica democratica non sta a noi giudicare le ideologie alla luce di quello che è successo che fra l'altro ci ha portato alla repubblica democratica noi prendiamo una posizione posizione che è costituzionale è vietata la ricostituzione del partito fascista guardate non è vietato né si potrebbe vietare soprattutto poi in un documento democratico non si potrebbe vietare a nessuno di aderire all'ideologia fascista o di dirsi fascista e questo sarebbe un attentato alla libertà sarebbe un liberticidio i padri costituzionali le sanno queste cose va bene che oggi cominciano a uscire volumi ed era anche l'ora in cui si fanno le bucce ai padri costituzionali e si dice ma quali padri della costituzione antifascista i tre quarti di questa gente che ha fatto la costituzione aveva avuto posizioni spesso anche di rilievo professori universitari prefetti dirigenti di istituzioni di cultura nell'ambito del regime fascista pochissimi di loro si contano sulla punta di una mano sola avevano rifiutato fedeltà al regime fascista e questi hanno fatto la costituzione ma questa ma questa è la storia italiana questa è la storia del nostro paese bisogna avere il coraggio di attraversarla guardando in faccia se abbiamo delle piaghe addosso è comprensibile ma è pessima politica di chiudere gli occhi e ruotarsi dall'altra parte è meglio guardarla la natura della piaga anche come primo passo se la vogliamo curare e questo non è successo evidentemente dove voglio arrivare voglio arrivare a una richiesta se volete la posso formulare anche in modo ufficiale poi la metto per iscritto al presidente Gianni di precisare in che senso in che misura fino a che punto la Toscana è una regione antifascista è una delle regioni che ha dato un maggior contributo all'antifascismo ma anche per esempio all'intelligenza fascista è una delle regioni dove il neofascismo il postfascismo poi bisognerà discutere fino a che punto l'attuale presidente del consiglio in pectore sia una ex postfascista una ex neofascista sarebbe interessante vederlo sentire il suo parere prima o poi qualcuno glielo chiederà e non in maniera provocatoria ma in maniera in maniera seria si possono fare questi ragionamenti sperando di avere una risposta chiara una risposta chiara io non chiedo al presidente Gianni conosco anche un caro amico non gli chiedo una definizione di fascismo lo so da me che il fascismo è una cosa complicata in risposta a tutta la letteratura onestamente mediocre uscita negli ultimi tempi che è una letteratura spaventosamente conformista c'è un libro che sta uscendo per un collega pisano il professor Poggi intitolato fascismo sospesso libro che io consiglio soprattutto ai colleghi insegnanti perché mette a paragone in rapporto in confronto diversi documenti fascisti diversi documenti antifascisti la proposta fascista e la risposta dei vari antifascismi e ne emerge una cosa fondamentalmente che è molto interessante che finalmente dopo averne tanto parlato o non averne parlato affatto Cazzullo non parla della carta della scuola non parla della carta del lavoro parla delle violenze squadristiche fa benissimo a denunziarle parla delle violenze fasciste durante il periodo della guerra civile o della resistenza e fa benissimo non parla però degli elementi che dal punto di vista del suo oggetto di studio che è il fascismo proposto come male non male assoluto questa è una definizione teologica quella di male assoluto nella storia non esistono male assoluti come male politico come come ignoranza come errore come violenza che però restano ancora parole riusciamo a forare la sostanza delle parole che se resta sola è molto diafana non solo con le esemplificazioni che sono importantissime ma alle quali si può rispondere anche sempre con altre esemplificazioni ma con un discorso che possa essere convincente al riguardo io io non sono antifascista bramerei sarei contento di essere antifascista mi sentirei un pochino una voce nel coro e sentirsi una voce nel coro sarà umiliante dal punto di vista intellettuale ma è rassicurante solo che continuo a coltivare un dubbio di quali di molti antifascismi quale fra i molti antifascismi potrebbe essere il mio antifascismo di Benedetto Croce bene antifascismo di Don Sturzo rispettabilissimo l'antifascismo di Palmiro Togliatti o di Pietro Nenni o di Altiero Spinelli benissimo l'antifascismo che so io di infiniti altri personaggi della galassia antifascista appunto una galassia anche interessante anche importante anche profonda ma che però ha dei punti di disgiungimento dei punti di critica interna dei punti di dissidio interno che fanno sì che quando si pensa all'antifascismo bisogna pensarci al plurale ci sono molti antifascismi a quali di questi antifascismi allude il presidente Gianni quali di molti antifascismi il presidente Gianni ritiene che sia proprio della storia toscana della tradizione toscana se non mi risponde a questo io mi dispiace ma non posso personalmente aderire a una cosa di questo genere che insomma avrà il suo corso perché è stata è stata dettata da parte di uno che oggi ha le redini del paese legale almeno nella regione toscana e quindi passerà passerà su tutti i giornali sui libri di scuola si faranno anche riunioni nelle scuole non nei posti di lavoro perché ormai questo non usa più la classe operaia come sapete è stata scapitozzata e frammentata non esiste più una classe operaia o una borghesia e per questo trionfa il populismo che è qualche cosa di indistinto quando non ci si sente più collegati a una realtà strutturata in quanto tale allora genericamente si aderisce a questa vana semi-idea che ci dice che insomma sarebbe l'ora di pagare meno tasse di vivere meglio di avere un ambiente pulito di avere più democrazia di avere più libertà di avere più sanità di avere più educazione eccetera tutto questo è il populismo finché non va al potere quando il potere va al populismo svela i suoi connotati quando Domingo Peron nel 44 nell'Argentina nel 44 è andato al potere e ha trasformato il sentire populista della maggioranza che l'aveva portato al potere perché ce l'aveva la maggioranza in un sistema di tipo socialista corporativo che ci fa sempre chiedersi ma che era più vicino al fascismo più vicino al comunismo ragionare in questi termini è già cercare di fare un pochino di chiarezza per esempio se io dovessi grazie a Dio non ho e non ho nemmeno nessuna intenzione dovessi portare un mio contributo alla definizione di fascismo e quindi di antifascismo se lo dovessi fare perché io mi occupo di altro e rivendico il mio diritto di occuparmi di altro se lo dovessi fare direi beh vogliamo parlare di violenza vogliamo parlare di sopraffazione vogliamo parlare di razzismo che questo sarebbe un buono spunto il fascismo è stato i fascismi sono stati razzisti ma non tutti il franchismo spagnolo non lo è stato è un fascismo il franchismo spagnolo no era un regime autoritario all'interno del quale però c'era una frazione di tipo fascista che era quella d'origine falangista era razzista manco per idea eppure la Spagna aveva un passato coloniale l'avere il passato coloniale non dispone storicamente alla presenza di elementi razzisti nella propria società ma certo aiuta in Spagna questo non è successo è successo in altri paesi non è nel DNA della cultura spagnola prendiamola anche prendiamola anche alla larga prendiamola nella profondità della storia gli spagnoli i conquistadores hanno spogliato delle civiltà intere gli hanno rubato tutto l'oro e l'argento che avevano hanno causato anche la sparizione di gran parte delle persone che erano parte di queste civiltà hanno involontariamente seminato il vaiolo o altre malattie ma anche la semplice influenza che nel mondo incaico nel mondo asteco erano prodotti da bacilli o da virus e non esistevano e quindi hanno fatto carneficina una cosa che il conquistador castigliano andaluso si portava dentro allegramente 37 e mezzo di febbre che sarà mai ha sterminato interi villaggi indios però non era questa la volontà e non era questa la volontà tanto è vero che oggi voi visitate certi paesi che sono stati in prima linea investiti dal colonialismo spagnolo e tutto potete dire la superstizione l'arretratezza tutto quello che volete ma non il razzismo sono paesi che sono cresciuti nel meticciato pensate evidentemente a tutta la Mesoamerica anche il Brasile anche se non ha avuto il predominio spagnolo ma ha avuto quello portoghese e ci assomigliava l'elemento razzista era al di fuori di questa cultura quello che c'era che si presentava non come razzismo teorizzato ma com'è l'azzismo pratico il mattrattare gli schiavi eccetera nella storia della Spagna noi sappiamo che a un certo punto è stato arginato questo certo punto molto preciso bisogna fare il punto della situazione è il 1542 quando un domenicano che era stato vescovo in Messico frate Bartolome de las Casas perseguitato dall'aristocrazia crioglia cioè scusate dall'aristocrazia spagnola radicata nel nuovo mondo è perseguitato perché predicava la fratellanza tra gli spagnoli vincitori e gli indigeni vinti e schiavizzati e stigmatizzava la violenza contro gli schiavi Bartolome de las Casas è tornato in patria chiamato dall'ordine dominicano tanto più che prima o poi l'avrebbero ammazzato in patria a chi è studienza al suo capo di stato il suo capo di stato era Carlo V d'Asburgo Carlo V d'Asburgo è stato a sentirlo Carlo V era un buon cristiano ed era filosoficamente un cristiano che aveva ereditato la tradizione di Erasmo del Rotterdam cioè per quanto possa sembrare paradossale per un uomo come Carlo V vissuto in mezzo alle guerre Carlo V era un erasmista era un uomo della pace era un uomo della razionalità Erasmo è il Rotterdam ha scritto l'elogio della follia che come sapete è l'elogio del suo contrario Carlo V ascolta fra Bartolome ed emana delle leggi che si chiamano proprio tecnicamente così la in castigliano le leggi nuove bene sulla base delle leggi nuove è successa una piccola cosa è successa che qualche idalgo ico de algo figlio di qualcuno qualche nobile magari grande di Spagna è finito impiccato impiccato per ordine dei governatori che agivano per conto del re cattolico perché aveva abusato di una schiava india o di una schiava nera perché erano già arrivati anche gli schiavi dall'Africa e ne aveva abusato contro la sua volontà e magari l'aveva uccisa e per questo l'idalgo è finito impiccato trovatemi un esempio solo un esempio di lord inglese o di sir inglese o anche di mercante olandese o anche di gentiluomo francese che sia mai stato condannato sia pure a pene lievi e con la condizionale per aver fatto la stessa cosa non la troverete un esempio del genere la violenta il violento sistema schiavista spagnolo aveva questo elemento che sistemi che noi riteniamo molto più civili pensate alla grande al fulgore della compagnia delle indie sia quella indiana sia quella inglese sia quella olandese questi sistemi che hanno creato il moderno la moderna base della nostra finanza eccetera anche se poi sostanzialmente hanno fallito e sono stati sostituiti dallo Stato che sia la compagnia inglese e le indie sia quella olandese poi a un certo punto hanno dato prova di non essere riuscite a organizzare la società coloniale società coloniale che spesso era razzista ma insomma abbiamo fatto tutti nostro magari con dispiacere la grande critica e facciamo un grande spirito dell'umanità come Nelson Mandela abbiamo detto sì va bene insomma ha fatto abolire il razzismo nel suo paese e non è cosa da poco l'ha sostituito con un sistema di convivenza fra razze diverse però tutto questo ha avuto un peso ha dovuto pagare qualcosa e oggi nel mondo sudafricano questo non si perdona più a Nelson Mandela del resto se pensate che in India si atterrano le statue di Gandhi perché Gandhi non è stato abbastanza fedele allo spirito hindù e il movimento religioso nazionale che oggi governa l'India quindi è un movimento anti-gandiano quindi dopo che l'Occidente ha eretto monumenti spirituali a questo grande spirito al Mahatma Gandhi nel suo paese il Mahatma Gandhi è diventato meno il Kerala piccolo paese ancora comunista del resto della federazione indiana Gandhi è diventato un nome impronunziabile la tomba la sua tomba non si tocca naturalmente pur sempre un padre della patria ma per il resto lo si è messo da parte Mandela a cui noi a Firenze abbiamo dedicato il nostro grande centro di studi e di riunione il forum Mandela Mandela rischia di fare la stessa fine in Sudafrica perché si dice il prezzo della fine del razzismo è stato non aver toccato la questione sociale bianchi e neri parità senza dubbio però non si toccano le strutture della proprietà privata e siccome la proprietà privata era in mano ai bianchi oggi voi abitate visitate Sudafrica e scoprite che c'è effettivamente uno spirito di collaborazione e di cordialità eccetera eccetera fra esponenti di razze diverse ma i poveri sono bianchi o neri con una certa prevalenza dei neri i ricchi sono tutti bianchi e questo vorrà dire qualcosa e qualche sudafricano lamenta che Mandela non abbia portato al termine la rivoluzione io mi chiedo quando si lamenta qualche cosa bisogna anche aver pronto le pezze d'appoggio per dire che il contrario era possibile mi chiedo era possibile fare il contrario? temo che in quel momento non fosse possibile è un opus imperfectum quello di Mandela però il razzismo sarebbe un bel un bel elemento se dovessimo giudicare per esempio costruire l'identichitta del fascismo è necessario farlo perché noi siamo una regione antifascista l'ha detto il Presidente allora voi non potete continuare a dire sì un antifascista in generale perché sono contro la violenza beh il fascismo è senza dubbio stato un sistema che ha usato largamente la violenza o se preferite i fascismi sono sistemi che hanno largamente usato la violenza poi in tutta Europa e anche fuori d'Europa se il peronismo si può definire un fascismo qualcuno l'ha fatto se il nasserismo si può definire un fascismo qualcuno l'ha fatto ma lasciamo perdere il nazionalsocialismo perché il nazionalsocialismo ha criteri propri molto specifici se facciamo un'equazione fascismo nazionalsocialismo beh allora il discorso cambia ma allora molti fascismi vengono esclusi dalla qualifica di fascismo se noi pretendiamo che il fascismo corrisponda al nazionalsocialismo è un bel rebus e molte cose che noi attribuiamo al fascismo sono tipiche del fascismo ma non sono esclusive del fascismo la violenza tipica del fascismo ma non esclusiva del fascismo l'arroganza tipica ma non esclusiva lo stesso razzismo se vogliamo tipico ma non esclusivo se noi pensiamo che sistemi razzisti sono sopravvissuti ad Adolf Hitler perfino nelle civilissime democrazie scandinave ancora oggi ci sono residui della vecchia legislazione razzista per cui per esempio una donna che sia comprovatamente sterile ha l'obbligo di qualificarsi come tale questo succede in Svezia in Danimarca in Norvegia addirittura in certi paesi viene viene immesso nella carta nella carta identità e allora evidentemente non parliamo dell'America naturalmente nell'America nel senso degli Stati Uniti è sempre bene non parlare insomma diciamo che la polizia statunitense spesso usa metodi fascisti potremmo potremmo rovesciare la polizia statunitense in molte molte sue connotazioni è una polizia che noi possiamo anche definire fascista ma che è tipicamente statunitense allora dovremmo dire che erano i fascisti che usavano metodi di tipo statunitense evidentemente questo ci ripugna non è facile ma bisogna affrontare il problema delle definizioni e delle definizioni ragionevoli oltre che razionali e questo noi siamo lontani dal farlo però se io dovessi per esempio purtroppo ogni tanto mi capita che nonostante la tarda età non ho ancora imparato la virtù della prudenza a me ogni tanto mi capita che qualche collega è professore di liceo di liceo perché magari gli altri sapete parlare a dei 25 anni è facilissimo è come parlare a dei 70 anni in fondo con qualche differenza parlare a dei 18 anni è relativamente facile per uno che abbia una buona esperienza di insegnante parlare a dei 16 anni è difficile parlare a degli 11 anni i 14 anni io ho dei nipoti i 11 anni i 14 anni e i loro colleghi che insegnano alla loro scuola ogni tanto mi trascinano a parlare con loro mi hanno trascinato anche a parlare di fascismo di comunismo per fortuna anche dei Re Magi e di Babbo Natale e lì mi trovo a mio maggiore agio perché c'è la leggenda da un lato l'antropologia culturale dall'altro che mi aiutano però parlare per esempio dell'uguaglianza rispondere al problema della ripartizione della ricchezza parlare dell'elemento base che probabilmente troverebbe concordi diciamo pure l'85% di noi non dico la totalità cioè che non c'è bisogno di arrivare necessariamente di arrivare alla collettivizzazione dei beni e alla abolizione della proprietà privata per auspicare un sistema nel quale le povertà più abiette siano combattute e siano probabilmente possibilmente sradicate dalla terra così come siano contenute le ricchezze eccessive e che si arrivi a una maggior equità il corano dice una cosa molto precisa quando parla di quella che nel diritto musulmano è la zakat la zakat è la elemosina non volontaria ma l'elemosina legale obbligatoria per tutti i musulmani e come funziona? funziona semplicemente in questo modo i musulmani si organizzano in comunità ogni comunità ha il suo imam eccetera l'islam moderno fa stati che sono organizzati all'occidentale quindi il primo degli imam di questi stati poniamo lo shaykh cioè il presidente dell'università di al-asar in Egitto è un funzionario statale che funziona come un ministro dei culti poi ci sono le varie comunità e ciascuna comunità risponde a una moschea e al suo imam o più imam se la comunità è vasta comunità per comunità il peso della comunità viene ripartito naturalmente tutte queste cose nei sistemi musulmani modernizzati e occidentalizzati hanno preso immediatamente una patina occidentale quindi la 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 nomenclatura che si usa per parlarne è una nomenclatura del tutto occidentale sciolta dai suoi valori dommatici e religiosi originari ma il principio è semplice comunità per comunità si contano i poveri cosa sono i poveri il Corano è chiaro è povero chi non sa mantenere se stesso e mantenere il proprio nucleo familiare i propri genitori gli ammalati della famiglia i figli i parenti fino alla prima o alla seconda generazione eccetera chi non riesce ad avere un livello economico che gli permette questo è un povero e non ha il diritto di essere assistito è la comunità che ha l'obbligo di assisterlo e naturalmente d'altra parte poi ci sono dei limiti almeno formali alla ricchezza quando diventa eccessivo eccessiva nel regime nasseriano questi limiti in alto erano molto ben seguiti e attentamente seguiti negli Emirati Arabi evidentemente il limite alto non c'è ma il limite basso c'è e ordinariamente si interviene quando qualcuno passa questo limite evidentemente la cosa è necessaria ma non è sufficiente il diritto coranico non basta ad azzerare la povertà altrimenti noi non avremmo i barconi nel Mediterraneo o ne avremmo molti meno però il principio è quello che stabilisce una soglia di povertà ci provano anche le Nazioni Unite ora con la svalutazione limite dei due dollari al giorno non funzionerà più diventeranno quattro o cinque o dieci non lo so ma c'è un tetto il quale non si può scendere perché altrimenti la società deve intervenire ora davanti a un grande problema come questo come hanno reagito i fascismi storici Cazzullo passa sopra del sistema corporativo dicendo sì il sistema corporativo praticamente favoriva i ricchi favoriva le classi più abbienti favoriva le borghessie ma queste cose vanno comprovate bisogna discuterle il deprecato De Felice ci aveva studiato un po' di più e non era del tutto di questo avviso e allora naturalmente il problema diventa più difficile però c'è un elemento importante e arriviamo alla conclusione di tutto questo che è una conclusione attuale se io dovessi oggi dare una mano a Eugenio Gianni anche un carissimo amico dargli una mano per comprovare davanti ai cittadini toscani che ha fatto bene a inserire questo discorso dell'antifascismo nella struttura istituzionale della regione io gli direi insisti sulla pace e quindi insisti anche su quello che può essere definito una deviazione ideologica della pace il pacifismo ma se il pacifismo è un termine ideologico che può dar noia sulla volontà di costruire la pace se in italiano ci fosse la parola ma non c'è allora la conio io si dice un neologismo la pacificità il grado livello di pacificità quello che diceva il padre Ernesto Balducci rovesciando il motto di Giulio Cesare si vi space in parabellum se vuoi la pace prepara la guerra che è quello che noi ordinariamente facciamo poi bisogna vedere se noi vogliamo volarmente la pace questo è un problema molto attuale il padre Balducci lo rovesciava dicendo se vuoi la pace prepara la pace prepara la pace per esempio bisognerebbe attuare un disarmo totale perché se non si hanno le armi per fare le guerre e si ha voglia di avere uno spirito bellicoso non si arriva oltre il sasso e il bastone e allora disarmare i popoli è già qualcosa noi viviamo in un mondo in cui nella più grande democrazia del mondo non siamo in grado nemmeno di disarmare i semplici liberi cittadini che se hanno sufficienti mezzi si possono anche comprare un bazooka e la legge li tutela in questo perché esiste questo concetto che nell'inglese degli americani si rende con la parola libertarian libertarian non significa semplicemente freedom significa qualche cosa è diverso è lo spirito è lo spirito della corsa d'ovest è lo spirito del pioniere che c'era fino dall'inizio dai padri pellegrini e gli Stati Uniti sono nati come nazione in cammino prima le navi come My Flower che hanno portato i padri pellegrini New England e poi tutto il resto i pionieri che sono partiti dalla costa santi che sono arrivati a quella pacifica affermare la propria libertà e l'assolutezza della propria libertà che si traduce in termini di proprietà la proprietà è una funzione della libertà se non hai proprietà non sei non sei libero nemmeno di dimostrare di essere libero appunto e allora insistere su questo fatto la pace noi non siamo stati in grado di garantire la pace negli ultimi tre quarti di secolo le nostre Nazioni Unite anche per un vizio di origine che dirò fra breve ma credo che lo conosciate tutti ma è ripetita Juvent le nostre Nazioni Unite non sono in grado di garantire la pace perché? perché l'istituzione delle Nazioni Unite è soggetta a un controllo da parte appunto di un comitato di garanzia il comitato di garanzia è costituito dalle cinque grandi potenze mondiali le potenze che hanno vinto la seconda guerra mondiale direte ancora oggi 80 anni dopo si è ancora oggi 80 anni dopo Stati Uniti d'America Unione Sovietica a cui è subentrata la Russia anche se la Russia è soltanto un pallido riflesso di quello che era la grande Unione Sovietica la Francia l'Inghilterra si potrebbe discutere ma la Francia è ancora una grande potenza mondiale l'ONU ci dice di sì e la Cina ovviamente la Cina ce l'hanno dovuta infilare e forse è quella che con gli Stati Uniti d'America ha più diritto di altre di essere definita una grande potenza le grandi potenze che costituiscono il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno diritto di veto e voi sapete c'è un principio giuridico al riguardo molto preciso il diritto di veto era quello dei vecchi tribuni della plebe dell'impero romano o della Repubblica romana il diritto di veto non è soggetto al sindacato se io dispongo del diritto di veto basta che lo esponga veto qualche cosa proibisco una certa cosa che è l'oggetto di una discussione la discussione si spenge si decapita immediatamente non ho non sono tenuto a giustificare il diritto di veto anzi diplomaticamente parlando il diritto di veto non si deve giustificare alla luce del diritto di veto tutti i tentativi dell'unione degli Stati Uniti non degli Stati Uniti delle Nazioni Unite negli Stati Uniti sono gli Stati Uniti d'America è un'altra cosa delle Nazioni Unite di risolvere per esempio il problema dell'Occidente africano livelli di povertà eccetera eccetera quel problema che adesso sta creando grossi sommovimenti di masse fra il Mali la Costa d'Avorio e via discorrendo e la Francia più volte è dovuta ricorrere addirittura alle armi alle sue armi nazionali non è più l'Occidente africano una colonia francese ma di tanto in tanto arriva l'esercito francese a mettere pace e a ristabilire l'ordine quale ordine va bene poi lo vediamo perché quell'area come tante altre aree è preda della sopraffazione delle lobbies che arraffano tutta la ricchezza del paese la portano da altre parti la danno ad altri soggetti e lasciano la gente del Mali la gente della Costa d'Avorio poveri e questo lo sappiamo però tutte le volte che le Nazioni Unite hanno provato a stabilire dei modi per migliorare tutto questo anche per frenare poi l'esodo che alla fine ci arriva sul Mediterraneo la Francia si è opposta e parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha opposto il suo veto questo provvedimento che potrebbe sollevare certi problemi potrebbe risolvere certi problemi non va non va adottato perché non è necessario che lo dica è membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è così che funzionano le cose e quindi è così che allo stato attuale delle cose le Nazioni Unite non riescono mai a risolvere nemmeno un problema fondamentale perché c'è sempre una delle cinque una delle cinque potenze che risponde niente o no o non mettetelo come volete e che vieta questa soluzione e allora bisognerebbe cambiare lo statuto delle Nazioni Unite abbiamo la possibilità di farlo certamente no per il momento evidentemente dovremo usare altri sistemi la comunità internazionale ci sta approvando ma non siamo arrivati a risolvere il problema che tutti noi auspicheremo probabilmente tutti noi governati con poco potere il problema è la soluzione delle armi nucleari le armi nucleari hanno una sola soluzione possibile perché sono talmente potenti e talmente inarrestabili nella loro potenza e nella loro perfettibilità che vuol dire che sono sempre più sempre più perfezionabili nel loro potere distruttivo che l'alternativa è una sola smettere di produrle trovare un accordo fra tutti gli stati per smettere tutti di usare l'energia nucleare a quel fine militare non ci siamo riusciti non abbiamo messo d'accordo i paesi su questo anche per i veti incrociati di Stati Uniti di Cina di Francia sono rimasti un po' un po' interdetti l'Inghilterra e la Russia ma poi anche l'Inghilterra e la Russia hanno aderito al parere degli altri cinque che non a caso sono tutte potenze che hanno l'uso del nucleare militare e allora a che cosa si è arrivati? a qualcosa che bisognerebbe spiegare nelle scuole perché è talmente infame è talmente improponibile che c'è da stupirsi che noi queste cose le sappiamo e non ci muoviamo unitariamente tutti insieme a partire da subito si è arrivati al trattato di non proliferazione che è politicamente un non senso perché significa il trattato di non proliferazione che si arriva a un certo punto mi ricordo quale sia l'anno mi pare sia il 75 ma forse sbaglio ma queste cose sono facilmente verificabili chi aveva le armi nucleari a quella data se le può tenere e le può anche sviluppare chi non ce le aveva ha il divieto di avercele è chiaro che una cosa del genere è politicamente possibile è una soluzione politica basta rassegnarsi al fatto ci saranno potenze nucleari e potenze che nucleari non sono e che sono sempre sotto una minaccia nucleare anche se noi diremo ma sono paesi responsabili non siamo mica davanti a paesi che hanno governi fascisti quindi useranno responsabilmente dell'arme nucleare si dubita un po' del presidente Putin però degli Stati Uniti fino ad oggi non abbiamo dubitato gli Stati Uniti che sono tra l'altro il paese l'unico paese che la potenza nucleare l'ha usata una volta sola nella storia nel 1945 a guerra fra l'altro quasi finita quindi si dubita che ne avesse un motivo che poteva risiedere nell'estrema difesa loro erano già i vincitori e lo sapevano benissimo ma avevano bisogno di fare questo esperimento come ci hanno insegnato nella scuola l'hanno insegnato anche a me e per il bene comune perché la guerra finisse prima per accelerare la fine del conflitto noi ci siamo fatti insegnare queste infamie e non abbiamo reagito lo abbiamo spiegato ai genitori i genitori hanno scosso la testa hanno detto ma veramente se ve le insegnano la scuola però non hanno mosso un dito poi a livello pratico il trattato di non proliferazione significa che c'è una legge per cui io posso avere una pistola se ce l'avevo dal principio voi se non ce l'avevate non la potete avere politicamente è un non senso ma funziona e infatti sta funzionando giuridicamente è un non senso assoluto è una legge infame è una legge vergognosa bisognerebbe vergognarsi non dico di averla scritta ma di averla accettata e l'abbiamo accettata tutti forse il pacifismo la chiave e la pace la chiave che sta cercando il presidente Gianni e ma allora tutto questo si urta con la realtà cosa sta succedendo oggi nel mondo oggi nel mondo ci si sta preparando a una possibile nuova guerra nucleare e vi sarete accorti con terrore dei vecchi con preoccupazione ma senso di sopportazione delle persone di mezza età e con abbastanza diffusa non curanza da parte dei giovani e dei giovanissimi che l'idea di una nuova guerra anche se fosse una nuova una guerra nucleare ma in fondo si è accettabile come qualche cosa che sta nell'ordine dei possibili parlando da 82enne io ho attraversato un lungo periodo nella storia mia personale del mio paese che è l'Italia e che è l'Europa in cui si era convinti che tanto la guerra non avrebbe mai come si diceva immaginificamente bussato più alla porta dell'Europa e dell'Occidente succedeva il Vietnam era successa l'Indocina era successa la Corea ma insomma sì la guerra era una funzione dei paesi poveri dei paesi in via di sviluppo col tempo la scienza la tecnica lo sviluppo della democrazia quindi dei sistemi democratici quindi lo sviluppo anche di un sentire democratico e pacifista avrebbero eliminato queste scorie di un passato del quale noi dicevamo di volerci vergognare non è successo così dopo tre quarti di secolo di pacifismo e di pace anche insegnata nelle scuole noi siamo alla possibile vigilia di una nuova guerra che potrebbe essere la terza guerra mondiale o quelli che dicono la terza guerra mondiale è già cominciata ed è il proliferare di guerre a bassa intensità un po' come le infezioni certe infezioni no? certe infezioni cotanee che continuano per mesi a riemergere anche nonostante tutte le nostre cure gli unguenti e tutto il resto siamo alla vigilia di un nuovo conflitto come reagiamo? con disorientamento ci avevano detto che il progresso avrebbe cancellato queste cose la guerra ha senza dubbio delle ragioni ed è anche una misura con la quale nelle intenzioni di chi scatena una guerra si vuole rispondere a queste ragioni e risolverle non è così che sia per esempio la pace il principio sul cui il presidente Gianni dovrebbe insistere per dire badate i sistemi fascisti prendeteli come volete se li prendete dal punto di vista sociale vedrete che i fascismi hanno fatto dei provvedimenti sociali interessanti eccetera se li prendete dal punto di vista del progresso vedete se li prendete dal punto di vista della violenza vedrete che anche all'interno di alcuni almeno regimi fascisti la violenza è sempre stata perlomeno imbrigliata sottomessa almeno formalmente alle leggi eccetera ma c'è una cosa che accomuna forse i regimi fascisti i regimi fascisti non sono istituzionalmente pacifisti nel senso del principio sono regimi evidentemente che mirano alla solidarietà nazionale che militano alla concordia interna mirano quindi a un certo ordine e già tutto questo rende plausibile l'idea che uno Stato possa in qualche modo somigliare a un esercito e che uno Stato si possa militarizzare almeno concettualmente e allora la pace potrebbe essere una una buona base per cominciare a dire noi come regione toscana antifascista siamo anzitutto per la pace provatevi a dirlo oggi una cosa di questo genere da quando è cominciato questo avvio di guerra strana tra la Russia da una parte e l'Occidente dall'altro perché l'Ucraina non reggerebbe senza l'apporto militare ed economico dell'Occidente è diventato quasi impossibile parlare di pace o di processo di pacificazione tutti lo auspicano ma in un futuro indistinto chi dice pace adesso probabilmente coscientemente o inconscientemente fa il gioco di Putin che in questo momento è in difficoltà e che quindi andrebbe messo una difficoltà maggiore si potrà raggiungere la pace solo quando Putin sarà cacciato o si dichiarerà vinto e se ne dovrà andare sarà appeso per i piedi a qualche parte non ha importanza beh ma questa è la pace dopo la vittoria e si torna a tacito hanno fatto il deserto e non hanno stabilito pace oggi la pace giustamente giustamente non nel senso che sia giusto ma giustamente nel senso che proprio così è proprio l'elemento di cui noi europei è bene che non parliamo troppo perché ci siamo rapidamente convertiti se non altro in senso passivo dell'accettazione al principio opposto al principio della guerra sarà transitorio speriamo che non sia troppo sanguinoso ma nel frattempo l'abbiamo accettati tutti e allora l'arma che abbiamo offerto su un piatto d'argento al presidente Gianni insiste sul pacifismo e questo la chiave per costruire il principio di una identità autenticamente antifascista si spunta perché è esattamente questo che non si può usare e allora a quale paradosso dobbiamo arrivare a paradosso che stiamo ridiventando una società fascista o che il massimo dei valori dell'antifascismo che è la ricerca della pace ormai non serve più e va denunziato come tale è una problematica totalmente attuale una problematica su cui dobbiamo e secondo me dobbiamo come dovere civico scatenare il nostro senso critico coinvolgere le scuole coinvolgere quello che resta dei partiti politici sapete io da da buono ultraottantenne ho una grande una grande nostalgia del tempo in cui a partire dalle liste elettorali tutte le cose che riguardavano la società si discutevano nei vari partiti almeno in quelli più grandi sezione per sezione e attraverso le sezioni locali si arrivava ai comuni alle province ai governi centrali e le liste elettorali uscivano con personaggi che poi magari deludevano ma che avevano tutte le caratteristiche potenziali per essere personaggi positivi culturalmente socialmente sul piano morale e via discorrendo tutto questo è andato perdendoci oggi le liste elettorali le fanno un pugno di una trentina di persone in tutta Italia e vengono accettate supinamente e questa democrazia sta diventando una oligarchia e questo processo noi lo stiamo accettando supinamente allora io e concludo io faccio l'insegnante non è colpa mia è l'unico mestiere che più o meno bene so fare io non ci credo alla pace non ci credo alla giustizia non ci credo alla libertà credo a tutte queste cose come risultate da un sistema sociale che sarà sempre comunque imperfetto io credo nel ragionamento e nella conoscenza credo nella diffusione delle notizie credo nella necessità per ciascuno di noi di capire sempre meglio in che mondo siamo e in che mondo viviamo se riusciamo a fare tutto questo poi la pace la libertà il progresso perfino l'abbondanza economica dovrebbero venire in conseguenza se noi continuiamo a vegetare su una società civile che è sempre più ignorante non nel senso che non abbia mai letto Umero o che non abbia mai letto Dante ma nel senso che ignora il mondo in cui viviamo noi evidentemente marciamo a marce forzate verso la nostra autodistruzione e in fondo fare un festival dei libri almeno concettualmente nelle intenzioni degli illusi che lo fanno cominciare da me e da voi serve proprio a evitare questo ultimo risultato disastroso grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti